Quante speranze ci sono affinché Dursi prenda parte alla sfida delicatissima e decisiva di Giovedì a Salò? È un reclamo molto delicato perché si innesta su una problematica di connessione tra norme e di competenze. Noi abbiamo fatto valere, se vogliamo, una tesi innovativa che tuttavia è il risultato di una lettura, credo, serena delle norme per cui ritengo che lo spazio ci sia, naturalmente alla fine sarà la Corte a decidere se accogliere la nostra teoria difensiva o meno. È la nostra perplessità, il giudice sportivo ha inflitto due giornate di stop a Eugenio Dursi che è stato espulso, ricordiamo, il 74esimo della partita con il Gubbio dello scorso 4 maggio, ma il giudice sportivo ha deciso in base al referto dell'arbitro? No, assolutamente, nella refertazione di gara non c'è assolutamente alcun addebito al calciatore e frutto esclusivamente di un rapporto dei collaboratori della Procura federale che appunto evidenziano questo episodio. E questa è un'anomalia nel senso che il giudice sportivo ha sentenziato in base al referto della Procura federale? Esatto, un'anomalia è il fatto che il giudice sportivo abbia valorizzato la refertazione della Procura federale come se fosse la refertazione del direttore di gara. Noi sappiamo che i referti di gara hanno valore fidefacente, per cui sono validi fino a querela di falso e questo non vale invece per tutto il resto, per tutte le altre prove. Oramai il collegio di garanzia si è pronunciato sull'argomento affermando che c'è una gerarchia delle fonti di prova e sicuramente i rapporti della Procura federale non hanno la stessa valenza di una refertazione di gara. Non solo, è che l'episodio si è verificato ancora nel recinto di gioco, per cui a nostro avviso l'unico che poteva sottolineare e quindi refertare l'accaduto era il direttore di gara. Nel momento in cui il direttore di gara non ha refertato la condotta e doveva essere un altro il percorso della rilevazione dell'illecito, cioè quella di un procedimento disciplinare to cure, ma non una sanzione da gara, da giudice sportivo. Dursi è stato fermato per due giornate. Allora, una gara effettiva di squalifica per doppia munizione e una gara effettiva di squalifica per avere, leggo testualmente, al 29esimo minuto circa del secondo tempo ha pronunciato un'espressione blasfema dopo essere stato espulso e mentre si avvicinava al tunnel d'ingresso agli spogliatoi. Ma davvero ha pronunciato un'espressione blasfema, Dursi? Noi riteniamo di no. Abbiamo ascoltato il video più volte e riteniamo che quella espressa dal giocatore non possa essere sussunta nelle espressioni blasfeme e quindi anche su questo abbiamo ritenuto di allegare noi, visto che la procura non lo fa, il video, tuttavia noi sappiamo che la prova per immagini televisive è severamente vietata a livello di ordinamento sportivo, se non in determinati casi. Noi riteniamo che la fattispecie assolutamente meriti l'ingresso della prova televisiva, tuttavia l'argomento principale è quello che ho speso prima, cioè il fatto che non si possa qualificare la rifertazione della procura come se fosse un riferto di gara, perché non lo è, perché il codice ci dice che non lo è. Assolutamente chiara, grazie a Flavia Tortorella. Insomma, mercoledì mattina ci sarà il dibattimento, no Flavia? Sì, alle ore 10, sì. Alle ore 10 quindi la sentenza intorno alle 2? Presumo di sì, sono molto celeri e sanno, d'altronde hanno accolto la nostra esigenza di celebrare questo procedimento prima della partita del 12 e quindi questo mi fa ben sperare che insomma la corte abbia assolutamente in animo comunque di essere celeri per dare la possibilità al giocatore eventualmente di riaggregarsi alla squadra. Grazie a tutti.